Mininart ha voluto lanciare qualche anno fa, quattro anni fa per la precisione, una grande sfida. Crescere in termini di ampiezza, di rappresentatività, mantenendo alto un livello espositivo. L'unico modo per raggiungere questo obiettivo era quello di aprire la internazionalità. La scelta che abbiamo fatto è stata quella di coniugare la nostra città, che è la città che esce da una vicenda di fortissima internazionalità come quella dell'Expo, a settori diversi da quelli del design, da quelli della moda, da quelli dell'industria. Oggi, grazie alla crescita di Mininart, credo che Milano possa essere considerata anche la capitale dell'arte moderna.